La punizione, l'ennesima punizione che mette in difficoltà Andrenacci, il portiere del Besha, che deve compiere veramente un abalone a impegnare di nuovo il portiere del Besha Andrenacci. Guardate l'abilità del numero 18 della Samp, veloce e velocissimo. E poi Riccone che conquista di nuovo un pallone, Guagliarella lo delizia l'assist centrale per De Luca. È il 2-0 per la Samp sul finire della partita. C'è davanti bravissimo a cogliere l'unico pallone giocabile in questa situazione di gioco per lui dopo essere subentrato al...